eeeh bello a tutti ragazzoli secondo video di giornata perché siamo qui? perché la passione prende sopra vento interagendo con chi è del mestiere mi hanno consigliato siccome perché mi conoscono e sanno che mi andrei a divertire di più perché stiamo parlando dall'immagine di copertina avete già capito tenteremo di fare altre 5-6 multiple con la speranza di andare a sculare Ronaldinho Gauccio io non vi rubo altro tempo l'attesa è finita si comincia bonus oh le beddazzi niente bonus d'accesso al giornaliero perché lo sto registrando dopo le partite che avete visto nel video delle 12 cosa c'è da fare? c'è da andare da lui stando con la speranza che Konami metta un po' di meritocrazia all'account del vostro Alevegna86 per cercare di portarci a casa Ronaldinho Gauccio me l'hanno consigliato me l'ha consigliato gente che è del mestiere che capisce di gameplay e ti fai l'upgrade sicuro 100% Ronaldinho uno di quei giocatori poi raga 99 su 100 ne uscirà una versione più pompata però non si può lasciare lì soprattutto con un gameplay attuale che mi appaga che mi diverte raga e Ronaldinho chi mi conosce lo sa chi mi conosce lo sa è come Neymar sono quei giocatori lì schillati fotonici e quindi ci proviamo raga noi ci proviamo raga siete pronti? certo che sì perché siete ludopatici allora partiamo subito con la prima multipla la corte del vostro Alebenni non è il Gauccio perché è merda fotonica luce bianca raga quindi schippiamo subito coche raga coche raga pazzesco altri 9 brocchi insieme a lui seconda multipla 85 nel pool vediamo se arriva il Gauccio attenzione luce verde non si illumina la E di football dello stadio non è lui raga non può essere lui raga con la 11 non è lui chi è? Neymar no Rafinha raga Rafinha Rafinha è schillato però Eda non può fare SP non può fare un cazzo raga poi me li svincolo dopo per farmarmi i token faccio così per dargli il secondo booster a Ronaldinho e fare una carta di quelle fotoniche allora andiamo terza multipla raga 75 scendiamo a 65 dite che mi porta fino alla fine luce bianca Yerai e altri 9 brocchi insieme a lui quante monete? 9 18 ancora 3 multiple posso fare dai Konami non fa la figlia di puttana però attenzione raga attenzione dammi Ronaldinho Gauccio come primo non fare non fare brutti scherzi eh è lui raga raga no ma vaffanculo con la 20 sulle spalle chi è? Deco è Deco raga ma porca puttana raga madonna mia Deco per carità può essere un buon giocatore eh ma c'è ma visto pull raga uno per chi gira per Deco o per Ronaldinho Gauccio direttamente da Porta Alegre raga per Ronaldinho Gauccio uno gira e adesso o lo sculiamo subito raga così lo sculiamo no luce bianca Dani Olmo brocco base chi cazzo se ne frega tutti gli altri sono peggio di lui ultima multipla sì ultima multipla e poi qualche giro singolo non arriva raga me lo fa sbancare raga me lo fa sbancare iniziamo subito con un'associazione a Delingue raga ma io cazzo me frega investo nella mia passione un team e-sport che mi supporta qui sto pagando di tasca mia però diciamo mettiamo i puntini su lei giro singolo ma Ronaldinho è Ronaldinho merda fotonica Bernal Bernal raga ma chi cazzo è Bernal raga ma veramente manco sua madre lo conosce Bernal del Barcellona VGG69 minca sprecano tempo a far ste carte raga quanti giri ancora tre singoli vediamo se magari si scula con una singola non è mai successo raga non mi è mai successo e non succederà raga e non succederà svincola neanche i token perché sono dei brocchi che più brocchi non si può vediamo ma neanche raga attenzione no 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 fuochi d'artificio ma luce bianca non può essere lui è Ocampos raga ma porca troia svincola dai Konami Dio santissimo non me lo dà ultimo giro raga ne avanzano 30 nel pool raga 30 ne avanzano nel pool devo mettere di nuovo mani al portafoglio dai ho già capito ho già capito niente faccio la transazione raga per lasciare 30 per lasciare 30 non esiste raga allora torno indietro poi vabbè faccio la transazione poi faccio il ritaglio raga derubati da Konami ma ci può piacere perché dall'altra parte c'è un Ronaldinho che ci aspetta 3370 monete sono 9 18 27 3 multiple deve arrivare raga 3 multiple lo sbanchi basta hai rotto il cazzo è così la passione prende sopravvento ritorniamo nel pool ne avanzano 30 multiple dammelo subito così mi risparmio le monete raga non lo dà mi porta all'ultimo vedete quanto sono sfigato col mio account non è la prima volta raga micchia Jvictor non è Jvictor è Pauvictor chi cazzo è questo dai poi li sbincoliamo per farci il token 21 nel pool raga state assistendo una rapina l'ennesima per il vostro alebbeni e arriva adesso forse forse vediamo se lui dai che è lui c'è c'è l'euro il digno gaucio raga tanti mi diranno ma sei coglione 140 euro fotte sega raga fotte sega me lo posso permettere investo nella mia passione ho un team che mi sponsorizza le spacchettate ho un canale attivo con la monetizzazione a livello di contenuto so che mi vado a divertire con gaucio raga la passione prenderà il sopravvento raga una giocata con Ronaldinho non è come una giocata con un giocatore base per me a 40 anni raga divento bimbo minchia come se fossi in cameretta e accendo la playstation 1 e gioco ice pro 98 raga Ronaldinho si presenta così raga è alla prolifica ma mi hanno detto che è programmato molto 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 aiutatemi a dire molto bene è un baggatone da quello che ho capito è un baggatone può fare l'SP può fare il trequartista può fare l'ESA incrollabile booster che si attiva già su controllo palla dribbling e finalizzazione andiamo a fare una build di quelle fotoniche raga il primo booster è fantasista controllo palla come abbiamo visto poc'anzi è sempre attivo e c'è il booster 2 non so se elogiargli quella caratteristica lì già di controllo palla dribbling e finalizzazione o boostargli la velocità raga l'accelerazione il comportamento offensivo perché sei schillatissimo col gameplay adesso che la CPU è un po' meno fotonica SP può workare raga SP potrebbe workare raga soprattutto se è più forte sottoporta allora inutile perderci in chiacchiere lo blocco non facciamo la fine dei pass del 2019 che presi chiellini lo svincolai in 4-4-8 in live continua andiamo a buildarlo a maxarlo buildarlo e dagli il booster raga torna indietro lo svincolo l'altro glielo converto vediamo un attimo abilità aggiuntive cosa c'ha c'è la doppio tocco se no io anche questo è il regista creativo raga no è da pazzi raga è da pazzi svincolare quel Ronaldinho 86 vediamo come si presenta potevo vederlo prima doppio tasto controlla di sola crocca le altre abilità non ha niente non ha niente se voglio mettere un po' più avanti magari il tiro di prima li potrebbe giovare la Veronica perché non gliel'hanno messa raga raga cioè raga non sono del mestiere lo sappiamo benissimo Ronaldinho senza Veronica va bene e l'altro allora vabbè livelliamo questo raga livelliamo questo progressi giocatore un po' prima livello 31 ne ho 455 da 1000 questi a tempo limitato abbiamo questi a tempo limitato togliamo questi abbiamo questi a tempo limitato 1000 abbiamo questi da 1000 31 maxato al massimo abbia allenamento procedi ok opzione di giocatore progresso allora la facciamo di default e poi ce la gestiamo noi come sempre consigliati ok parte così 4 4 12 9 8 in aria non guardo neanche glielo tolgo contatto fisico allora c'è già una bella accelerazione sappiamo benissimo che il booster è sul controllo dribbling è possesso stretto quindi io qui farei 1 2 così poi ho trequartisto sp piedi c'è già buoni fino a lì io gli aumento l'accelerazione fotonica se entra il finest dribble sul primo controllo sprint boost non lo prendi più così di default cos'è? 100 no di default è 99 ok di default è 99 così togli questo danno qui 99 abbiamo ancora un punticino qua non glielo posso dare passaggio potenza tiro 82 andiamogli all'intiro 99 lo lascio così e il booster il secondo cosa gli aumento cosa gli aumentiamo raga l'accelerazione del comportamento cosa posso dargli? allora mi sembra già più forte dell'altro così finalizzazione 83 ti sai in game come va allora dov'è aggiunta dettagli booster devo andare no vedete che non l'ho ancora fatto allenamento abilità no dove cazzo si mette il booster raga no realizzazione booster ecco mi sono perso un attimo allora puoi eseguire realizzazione booster in due modi casuale selezionabile sopra i booster negli slot possono essere sopra tutte le volte che vuoi tutte le volte che vuoi qua aggiungi ne ho 188 quindi posso darglielo raga posso darglielo selezionabile con 100 allora tiro aumenta il controllo di palla di quanto lo aumenta di un punto di un punto calcio di punizione aumenta la finalizzazione potenza tiro gioco aereo fotte sega Ronaldinho non cazzo me ne frega non è Cristiano Ronaldo potenza tiro passaggi gestione del pallone aumenta la velocità aumenta il dribbling il possesso stello il controllo del corpo impara l'arte mettila da parte andiamo a vedere gli altri per curiosità ma questo qui già mi stuzzica raga perché io i punti che gli ho tolto lì sapendo che c'era già il primo booster attivo sempre attivo glielo ho dati già in accelerazione con questo qui recupero i punti che gli ho tolto lì in automatico aumento la velocità pure è il controllo del corpo tecnica tecnica aumenta solo qui difesa 2 agilità agilità aumenta velocità e accelerazione fisicità niente istinto da attaccante aumenta ancora di più l'accelerazione ok lui non è una punta raga pilastro difensivo tutto campo saracinesco non portegolo fantasista fantasista anche fantasista però raga allora io gestione del pallone a Ronaldinho raga secondo me va questo glielo diamo usa i 100 hai realizzato gestione del pallone i booster negli possono essere sovrascritti tutte le volte che vuoi ok poi se lo volete provare con tecnica e così così basta riavere i 100 token e si riprova raga adesso a me poi me ne mancano 12 per poter avere un altro booster selezionabile da assegnare a qualcuno ovviamente qualcuno qualche carta che ha il doppio booster raga questa qui è la mia prima carta doppio booster Ronaldinho l'abbiamo battezzato così il doppio booster è concezionale proprio lui raga c'era anche Neymar 100% con 25 euro ho preferito Ronaldinho raga ho preferito Ronaldinho ok andiamo a vedere come si presenta in game e confrontiamolo con l'altro a stazza la mano raga andiamolo a vedere 104 va in game riserve 100 allora sinistra quello nuovo destra quello del Milan alla prolifica contro regista creativo l'avrei preferito regista creativo ma mi hanno detto che è buggato è fotonico come dico io allora comportamento offensivo migliore di poco ma migliore controllo palla fotonico rega passaggio pure passaggio alto un po' meno finalizzazione uguale calcio da fermo sulle punizioni è più forte quello che c'avevo è più veloce rega 87 velocità contro 84 stessa accelerazione c'ha il tiro un pelino più forte controllo del corpo è più forte rega poi se è programmato bene contatto fisico pure meglio anche di body type che come che con l'aggiornamento può giovare rega incrollare aaaah aaaah forma incrollabile pure forma incrollabile l'altro tecnica è questo fantasista e gestione del pallone rega devo aggiungergli abilità perché questo qui gli ha aggiunto una marea di abilità quello la mancano non so se convertirglielo non so se convertirglielo rega passaggio filtrante colpo di tacco a giro da distante vabbè poi poi ragiono con me stesso da vedere il da farsi intanto gli prende il posto e rega che cazzo faccio rega lo metto trequartista al posto di Neymar o tolgo Vinicius metto Gullit punta e Ronaldinho lo metto qua dietro minchia rega quando uno poi ha tutte ste carte man barano uia come dice il socio faccio così proviamo trequartista anche se secondo me è meglio metterlo sotto porta secondo me è meglio metterlo sotto porta quindi con la scusa che arriva Ronaldinho si cambia il modulo si cambia il modulo rega mi devo studiare poi qualcosa prossimo contenuto rega quindi bedazzi il video giunge al termine se siete arrivati fino a questo punto come sempre in primis vi ringrazio fatemi sapere la vostra nei commenti se l'avete preso e anche secondo voi è fotonico rega io vi saluto vi auguro un buon proseguimento di serata alla prossima con nuovo contenuto sui football ciao bedazzi